Panconesi, Università di Roma La Sapienza, ancora un intervento dal punto di vista dell'informatica. Questo? Prego. Ok, grazie. Questa è una bellissima occasione per parlare di cose molto interessanti e divertenti. Quindi, big data in a small world. Allora, iniziamo con le stelle. Allora, l'umanità sono secoli che osserva le stelle. Ora, grazie a strumentazioni molto complicate, molto sofisticate come i favolosi radiotelescopi che vengono utilizzati adesso, noi scandagliamo i cieli e possiamo capirne i segreti. Allora, volevo presentarvi due tesi. E piuttosto, diciamo, forti collegati ai big data. Allora, la prima è questa, che noi per la prima volta nella storia dell'umanità siamo in una situazione di poter osservare l'umanità mentre si muove e mentre si formano amicizie, opinioni, idee politiche. E questa cosa è resa possibile da grandi osservatori, anzi c'è un grande osservatorio, l'equivalente dei radiotelescopi, che è internet. Allora, internet è un enorme osservatorio sui movimenti sociali dell'umanità. E questo perché quotidianamente ormai miliardi di persone interagiscono con internet in tutta una serie di modi e, come c'è stato detto e ripetuto, vengono lasciate tracce digitali e grazie a questo fatto quindi abbiamo dei dati che ci consentono di osservare fenomeni sociali, economici, con gli strumenti delle scienze esatte. E questo è un cambio di paradigma fondamentale nella storia della scienza. Qua vedete un cambio di paradigma che è avvenuto nel 1968, quel signore Dick Fosbury che salta 2,24 metri vincendo la medaglia d'oro. Prima di lui saltavano tutti così e saltava così anche Valery Brumel, che era l'incontestato signore del salto in alto, era molto più bravo di Fosbury, infatti saltava 2,28 metri. Se non che poi questo cambio di paradigma adesso ha completamente conquistato la disciplina, adesso saltano tutti così a gambero, alla Fosbury e anche il record del mondo è con un salto alla Fosbury. Allora, nelle scienze sociali la prima grande tesi che vi voglio raccontare è che è in atto un cambio di paradigma che molto probabilmente comporterà una rivoluzione fondamentale nelle scienze sociali, sociologia, statistica, economia. E vi volevo fare un esempio concreto di un esperimento di psicologia sociale degli anni 60, che è un classico, un esperimento molto famoso e molto importante, proprio per farvi toccare con mano quello che può succedere con i big data. Allora, quel signore Stanley Milgram mise appunto questo divertentissimo esperimento. Allora, ve lo presento come un gioco. Allora, il gioco consiste in questo, ci sta Shrek che è il nostro amico e il compito di Shrek in questo gioco è quello di recapitare una lettera a questo signore che sta in alto a destra. Allora, di questo signore in alto a destra si conoscono tre cose, il nome, il cognome, la professione e dove sta. Ad esempio, John Smith, Stockbroker, Boston. Allora, Shrek deve fare così, se conosce il signore gliela può dare. Quindi se Shrek conosce John Smith gliela può consegnare e vince, è un punto. Se non lo conosce, l'unica cosa che Shrek può fare è passare la lettera a uno dei suoi amici, sempre con la speranza che poi la lettera venga recapitata al signore. Allora, supponiamo che Shrek decida di darla al suo amico asino, a questo punto l'amico asino dovrà fare la stessa cosa, ovvero, se l'asino conosce il signore John Smith, gli dà la lettera. Altrimenti dovrà fare la stessa cosa di Shrek, cioè consegnare la lettera a uno dei suoi amici, sempre nella speranza che la lettera arrivi a destinazione. Quindi magari la dà al suo amico cane Idefix e di nuovo Idefix, se conosce John Smith, gliela può dare, altrimenti deve consegnarla a un suo amico, e così via. Allora Milgram fece questo esperimento e si mise a osservare se e quante lettere arrivavano a destinazione. Allora, la cosa miracolosa è che il 30% delle lettere arrivarono a destinazione. E non solo arrivavano a destinazione, ma lo facevano in modo molto rapido, cioè in media ci mettevano sei passaggi. Allora, questo è un classico della psicologia sociale, e ha dato la stura a questa congettura di Milgram, cioè che comunque prendiamo due persone nel mondo, c'è sempre una catena di conoscenze che porta da l'una all'altra. Allora, il punto che ci riguarda oggi è questo. Milgram, quando ha fatto il suo esperimento classico, ha coinvolto 300 persone. Qualche anno fa fu fatta una replica dell'esperimento di Milgram a Columbia University, e quell'esperimento che confermò quello che aveva osservato Milgram coinvolse 60.000 persone. Un paio di anni dopo c'è stata un'altra replica dell'esperimento di Milgram con la chat di Microsoft Windows. Questa roba ha coinvolto 230 milioni di persone. Dopodiché, di recente, degli colleghi dell'Università di Milano, insieme a colleghi di Cornell e a Facebook, hanno fatto una replica dell'esperimento di Milgram che ha confermato l'intuizione di Milgram. Però questa replica ha coinvolto 750 milioni di esseri umani. Allora, vedete che qua, voi siete statistici, questa roba è una cosa assolutamente fichissima. Non penso di dover insistere molto nel dirvi che un campione di un miliardo di persone è più significativo di un campione di 300 persone. Allora, questa cosa qui avviene con i big data. Queste cose qui, adesso si possono fare esperimenti di psicologia sociale che coinvolgono non 300 persone, ma miliardi di persone. Dopodiché, il secondo tema che voglio affrontare, diciamo che questi sono dei semi o dei sassi dello stagno che voglio gettare, è questo. Allora, con i big data, credo che questa cosa sia particolarmente importante per i Census Bureau e per gli istituti di statistica come Istat, perché grazie a questi dati il lavoro di predire il futuro può diventare più agevole. Allora, sappiamo tutti, come diceva Niels Bohr, che fare predizioni è molto difficile, specie sul futuro. Allora, un gruppo di colleghi a Google ha detto vabbè, allora se predire il futuro è difficile, proviamo a predire il presente. Ok? Allora, che vuol dire predire il presente? Allora, predire il presente adesso è una specie di sottodisciplina della statistica e sostanzialmente l'idea è questa. Allora, immaginiamo che si stia sviluppando in Italia un'epidemia di influenza. Allora, quando si ammalano i bambini, eccetera, le mamme o i padri vanno su Google e iniziano a battere delle interrogazioni del tipo influenza, medicina, aspirina, eccetera. Quindi c'è un'incidenza di traffico di un certo tipo sul motore di ricerca Google. E in effetti esiste, vedete, questa cosa è stata fatta proprio da Google. In blu, voi vedete il traffico delle interrogazioni sul motore di ricerca Google che riguardano parole tipo influenza, aspirina, eccetera, eccetera. In arancione c'è i dati del Center of Disease Control, quindi il centro, predire il Ministero della Sanità, che dice qual è effettivamente l'incidenza di influenza. Il punto cruciale è che i dati in arancione, quelli dell'istituto della sanità, arrivano quando l'influenza si è già bella che sviluppata, mentre quelli blu sono in tempo reale. Quindi questo qua è predire il presente con i dati del web. Ora, sono stati fatti tanti studi. Ad esempio c'è uno studio molto accreditato che è stato fatto in Malesia dai ricercatori da Johns Hopkins e di nuovo con i traffici dell'interrogazione del motore di ricerca loro hanno sostanzialmente un sistema di allarme per epidemie della dengue, che è una malattia molto brutta. Dopodiché c'è un economista a Princeton che ha fatto uno studio che correla le interrogazioni sui motori di ricerca della parola macchine elettriche e il prezzo del petrolio. Non sorprendentemente lui ha trovato una relazione, cioè che quando il prezzo del petrolio sale la gente dice oddio quanto costa la benzina e va a cercare e dice forse vi posso fare una macchina elettrica e quindi c'è un aumento del traffico delle query che riguardano le macchine elettriche. Lui ha scoperto pure l'opposto e cioè che l'aumento del traffico delle interrogazioni sui motori di ricerca delle parole tipo macchine elettriche è un predittore della diminuzione del costo del petrolio. E la spiegazione sostanzialmente è quella che dà lui e dice che effettivamente quando questi esagerano e il prezzo della benzina diventa veramente troppo allora la gente inizia effettivamente a cercare delle contromisure e quelli se ne accorgono e quindi abbassano un pochino il prezzo. Questa è la spiegazione che viene data dall'economista. Ok, allora studi come questi ce ne stanno tanti e riguardano ad esempio predire come andrà un film cioè se sarà un successo oppure no predire come andrà una canzone alcuni sostengono che riescono a predire anche il mercato azionario io sono piuttosto scettico e le forme diciamo sono le fonti di dati sono diverse c'è Google Queries Google Insight Twitter Yahoo Research questo e quell'altro. Ok, quindi diciamo ci sono queste due grandi temi e ce n'è un altro ovviamente che è stato affrontato ripetutamente quest'oggi credo che sia importante però non credo che debba essere esagerato e ci sono quindi questioni di carattere questa è una cosa diciamo una mia lieve modifica dell'inizio della guerra dei mondi di H.G. Wells ora vi risparmio la mia lettura in inglese comunque inizia No one would have believed in the first years of the 21st century that this world was being watched keenly and closely by awesome computing and financial powers allora tradotto in italiano più o meno suona così all'inizio del ventunesimo secolo cioè oggi nessuno avrebbe mai creduto che il nostro pianeta fosse sotto osservazione da parte di entità cibernetico finanziarie di inimmaginabile potenza e che mentre l'umanità si affaccendava nella sua quotidianità i suoi movimenti venivano osservati da vicino da occhi cupidi allo stesso modo in cui i batteri che pullolano e si moltiplicano sono studiati attentamente al microscopio allora più o meno questo è effettivamente quello che sta succedendo se voi pensate a un'azienda come Google Google fattura dell'ordine di 45 miliardi di dollari l'anno il suo pacchetto azionario è pari al PIL dell'Austria per la ricerca cioè per il motore ricerca investo nell'ordine dei miliardi cioè l'investimento nell'infrastruttura è dell'ordine dei miliardi di dollari ok ora quindi queste sono entità cibernetico finanziarie di inimmaginabile potenza e ci scrutano ovviamente questa cosa crea dei quesiti profondi però diciamo io la vedo un po' così immaginate di stare sull'autostrada a un certo punto vedete dall'altra parte nell'altra carreggiata che nella piazzola d'emergenza c'è un forziere aperto pieno di soldi di diamanti a questo punto uno dice ma sto vedendo è veramente così quindi uno accosta si ferma esce dalla macchina e dice eh sì è veramente così a quel punto ci sono due atteggiamenti possibili allora l'atteggiamento italiano è quello di dire oddio ma è pericoloso ci stanno tante macchine che arrivano a 120 km all'ora come faccio? e queste persone si metteranno a discutere su tutte le cose brutte che possono succedere questo è l'Italia altri paesi più tonici dicono oh là c'è un forziere pieno di soldi e di diamanti è pericoloso però io voglio arrivare lì e quindi tutta la discussione è su come evitare di essere beccati dall'automobile ma però si vuole arrivare dall'altra parte e penso che qui c'è la stessa cosa cioè dietro ai big data ci sono questo tipo di problematiche ma da un punto di vista scientifico la cosa è strepitosa e anche da un punto di vista diciamo economico finanziario per il business eccetera le opportunità sono veramente grandi quindi non vorrei che quella cosa diciamo che le preoccupazioni poi precludessero delle opportunità quindi per concludere diciamo ho enunciato due tesi la prima è che secondo me è in atto un grande paradigma nelle scienze sociali un cambio di paradigma nelle scienze sociali in particolare sta nascendo un nuovo ibrido che è la statistica computazionale così come è nata la bioinformatica che è una scienza ibrida tra biologia e informatica che ha sostanzialmente ottenuto dei risultati fondamentali quali ad esempio il sequenziamento del genoma umano e la messa a punto di nuovi vaccini diciamo questa è la prima nel campo dei vaccini questa è la prima vera rivoluzione dopo Pasteur e questa cosa si fa grazie alla bioinformatica dopo di che è una scienza ibrida in particolare sicuramente servono grosse competenze statistiche ma anche da un punto di vista degli algoritmi e del processamento dei dati servono grandissime competenze quindi questa è una cosa intrinsecamente ibrida come peraltro è stato già osservato e poi ovviamente ci sono delle importanti questioni etiche che riguardano soprattutto la privacy di cui sicuramente bisogna essere in qualche modo consapevoli ok io ho finito grazie